Ed eccoci qui a Aranchio, siamo più o meno a metà del percorso, del percorso corto della Mediofondo, questa non è tutta la scuola, ma il capitano di Mario Romani Termi, andiamo avanti, cerchiamo un pochino, cerchiamo i convenienti tecnici, cerchiamo di risolverli, ovviamente il cerchio di risolvere, qua Tonino dà l'assistenza meccanica della GranFondo, ci proviamo, vedrei che è anche in gamba, facciamo l'elenco, quali problemi meccanici abbiamo risolto, forature, raggi o opti o no? No perché in pratica non avevamo i raggi, riuscivamo a risolvere anche quella, abbiamo risolto una pulatura, abbiamo risolto una pinza di un freno bloccato, idraulico bloccato, e poi c'è stato un caso eclatante di una signora che purtroppo non sapeva gestire bene il cambio, quindi gli si era bloccato il cambio, il deragliatore davanti, campiava male, quindi se vi trovate con un grossissimo problema, a voi di niente.